Musica Martina Gavazzi Gire si volta ancora l'attacco della squadra italiana Palla, palla e mezzo Viene dato il gol Italia che va in vantaggio Musica Vanno in pressing molto alto le giocatrici azzurre Attenzione all'attacco c'è lo spazio Il tiro che non entra invece E c'è il gol di Rebecca Rocella Per l'Italia che raddoppia la situazione di questa partita Quindi cambiamo il punteggio Quanto mancano 3.30 Al termine del primo tempo 2-0 Messo a terra con fatica Visto che stava rimbalzando sul largo anziché sul lungo Si va sulla destra La spinta degli Snipers Che però perdono il controllo del pack Settore di destra Ancora con l'Italia che cerca di mantenere il possesso del disco C'è lo spazio e il tiro E riesce a giocarla così Gli Snipers però la conclusione è scagliata da Trotta Non riesce a trovare il gol Sta provando di più sicuramente la squadra di Riccardo Valentini Che deve recuperare il passivo Adesso Quallone quasi litigato C'è lo spazio Il tiro e c'è il gol di Marco Stefani 2-1 Viene abbracciato E salutato a tutti i compagni di squadra Risultano Con il disco Dato dietro in favore di Stefani Mancano 30 secondi Adesso c'è anche il portiere di movimento Anzi praticamente nell'oggi Non si mette proprio il portiere in questi casi Ce lancio D'Aia Eleonora D'Aia E' recuperato 3 secondi 2 secondi C'è l'ultimo tiro E poi il tiro e il gol di Mattia Padovan Vediamo se viene concesso Sicuramente la partita è finita Sì Credo venga concesso il gol Adesso vediamo se dalla giuria viene dato un sostegno A Tostà che la partita è terminata Al Pala Mercuri è finita L'Italia Bianca ha battuto per 3-2 La Cipu Skating La Cipu Skating